Ringrazio di essere qua e mi sto trovando molto bene, ho trovato un gruppo che si conosceva già da anni quindi l'inserimento è stato molto facile, infatti ringrazio anche i compagni di questo è un ambiente positivo dove si può lavorare bene, fare le cose nella maniera giusta. Io avevo giocato qua già due volte, di cui una avevamo fatto 0-0, una volta l'avevamo perso e è una piazza tranquilla dove si può lavorare bene, che ha sempre fatto campionati comunque sia di vertice da quando è in Serie D, quindi al di là dell'ambiente tranquillo comunque c'è anche ambizione voglia di lavorare bene, di proporre penso calcio a ottimi livelli ma non credo a me dire a cosa dobbiamo buttare o a quello che dobbiamo ambire però è chiaro che si sta costruendo una squadra importante, quindi c'è la voglia di fare bene e poi di partita in partita ci porremo i nostri obiettivi però penso che questo Pineto sia destinato a fare un campionato di alta classifica No, mi trovo in spogliatoio molto bene, in particolare guarda il massaggiatore, anche Luca Orlando che dai cerco di imparare un po' qualche parola abruzzese, mi diverto molto peggio dai con nessuno, al di là che piano piano ci impariamo a conoscere a fare ottime cose anche in campo oltre che fuori però il gruppo è ottimo, è sano e c'è il giusto spirito